A pochi minuti dal porto di Otranto, a ridosso dei sentieri che conducono alla mena pineta delle orte, il paesaggio è caratterizzato dalla presenza del laghetto della cava di Bauxiter. A fare da cornice è il divido fondale azzurrino del canale d'Otranto, mentre fa capolino dalla costa l'antica torre del Serbo. Il ricco contrasto dei colori rende questo luogo tra i più singolari panorami salentini ed una meta per tutti gli appassionati di geotracking. La cava venne sfruttata dagli anni Quaranta per l'estrazione della Bauxiter, per essere poi dismessa nel 1976. Dal suo abbandono, in poco tempo, la natura si è rimpossessata del territorio per dare vita a un nuovo ecosistema lacustre. Il laghetto è alimentato dalle piogge e dalle infiltrazioni delle falde acquifere vicine. Negli ultimi anni la cava ha suscitato l'interesse di migliaia di curiosi e visitatori, i quali si spingono sulle pendici rossastre del bacino per godere del paesaggio, in particolare alle ore del tramonto, quando il cielo e la terra si mescolano in sceniche variazioni di rosso è turca. Grazie. Grazie a tutti.